Il gigante russo dell'energia Gazprom ha avviato i lavori per la costruzione del gasdotto TurkStream che collega la Russia e la Turchia. L'obiettivo è quello di far transitare il gas russo all'Unione Europea evitando il passaggio attraverso l'Ucraina. L'evento marca la riappacificazione tra i due paesi dall'inizio dell'accordo intergovernativo Trancare-Mosca firmato il 10 ottobre 2016. L'intesa prevede la costruzione e la gestione di due linee offshore e di due onshore del gasdotto. La conferma è arrivata dal numero uno di Gazprom, Alex K. Miller, che ha annunciato che i consumatori turchi ed europei avranno di qui, alla fine del 2019, una nuova via sicura per l'importazione del gas russo.